don salvatore lei ha 27 anni com'è nata la sua vocazione ma è da piccolo sempre nutrito il desiderio di entrare in seminario però essendo l'unico figlio e avevo paura di deludere i miei genitori e allora conservavo tutto nel mio cuore però in realtà ciò che inizialmente sembrava un sogno da bambino un desiderio poi nel corso della mia adolescenza si è trasformato in un vero e proprio sentimento ecco per per il signore da lì come si arriva alla decisione di entrare in seminario e quindi preceduta dalla comunicazione alla famiglia ma devo ammettere che ho avuto il sostegno del mio parroco don marco damanti che poi nel 2015 ha lasciato la città di menfi e quindi ovviamente ha iniziato il suo servizio nella parrocchia di santi pietro e paolo a favara però devo dire che in quegli anni lui mi è stato molto vicino e mi ha aiutato molto anche a comunicare questa mia scelta ai miei genitori diciamo che padre marco è stato nella mia vita strumento di misericordia perché grazie a lui sono venuto a conoscenza dei weekend vocazionali che organizzavano in seminario e quindi dopo un discernimento fatto con i formatori del seminario di agrigento è un discernimento fatto con il mio parroco e poi ho deciso di entrare in seminario e di iniziare il mio cammino dei suoi amici quelli che magari hanno seguito anzi certamente avranno seguito strade diverse quelli che magari hanno anche diciamo uno stile di vita diverso ci sarà anche chi frequenta la movida ecco come hanno valutato questa sua decisione ma devo dire che gli amici appunto come dicevi tu quelli che frequentano un po la movida ecco la vita notturna e mi dicevano salvatore noi ce l'aspettavamo che tu un giorno avresti fatto questa scelta di entrare in seminario perché in realtà io volevo nasconderlo a me stesso volevo nasconderlo agli altri però si vedeva che io ero molto vicino alla parrocchia quindi molto attento anche ai bisogni degli altri è un po tra il servizio che facevo nella parrocchia anche con la caritas essere sempre preciso ecco essere sempre non tanto preciso ma molto vicino ecco alla parrocchia allora loro se lo aspettavano ecco la loro reazione è stata una reazione gioiosa perché poi alla fine mi hanno detto beh se questa è la tua strada noi siamo felici per te siamo contenti per te come mai a suo parere questa strada negli ultimi anni al di là degli stili di vita che sono certamente cambiati anche da parte dei giovani soprattutto da parte dei giovani e come mai i seminari continuano ad essere vuoti o comunque non c'è non ci sono le stesse presenze rispetto al passato e questo si riverbera nei territori con la mancanza dei sacerdoti ma io non mi sento di dire ai giorni d'oggi che i seminari proprio sono vuoti del tutto perché di fatto non è più come gli anni ottanta no non è più come gli anni ottanta però è anche vero che tanti giovani comunque si interrogano e cercano un po di scoprire qual è il progetto di dio nella loro vita e certo i tempi sono cambiati tempi ovviamente sono diversi rispetto a prima però sono convinto che forse bisogna anche ripensare con una nuova pastorale e quindi a un modo più più moderno se così si può dire ecco se mi lasci passare il termine più moderno per stare vicino a loro e per poi arrivare anche a fare una scelta definitiva secondo me non mancano i giovani che si interrogano ecco e forse bisognerebbe un po cercare di ripensare come dicevo poc'anzi la pastorale e io almeno la mia esperienza che mi porto per esempio in seminario facevamo le giornate pro seminario quindi andavamo in giro nelle parrocchie e abbiamo fatto anche con il seminario di agrigento le missioni le missioni popolari e questo ci ha aiutato tanto abbiamo avuto la possibilità di conoscere tanti ragazzi che hanno frequentato il seminario che si sono interrogati sulla loro vocazione e poi ognuno ha fatto la propria scelta la chiesa agrigentina in quale direzione andrà a suo parere con monsignor damiano che nei prossimi mesi tra un anno si insediera ricordiamo che negli ultimi anni in particolare sempre sulla vicenda migranti con don franco ci sono state delle prese di posizione molto decise ecco lei prevede dei cambiamenti o si andrà avanti su questo filone ma io ho avuto la possibilità di conoscere monsignor damiano a mio modesto parere è una persona veramente molto aperta e quindi penso proprio che porterà avanti quello che ha fatto in questi anni don franco ecco che prendersi appunto cura dei più deboli dei più poveri e degli immigrati che arrivano nel mare di lampedusa e questo perché il loro c'è cristo c'è il corpo di cristo c'è l'eucaristia vivente noi tante volte siamo bravi magari a fare la carità altrove però non pensiamo a quelle persone che arrivano da vicino io penso che monsignor damiano ormai da un mesetto che in diocesi con noi e poi avrà il diritto di successione come arcivescovo coauditore porterà avanti quello che ha fatto anche don franco che ha fatto anche don franco ecco